L'Unione Calcio Biceglie torna a vincere e lo fa imponendosi sul sintetico amico del Diliddo per 2-1 contro il Gallipoli, che perde per la seconda volta consecutiva. I padroni di casa giocano un buon calcio nella prima frazione, dove realizzano entrambe le segnature. Ma calano nella ripresa, lasciando il pallino del gioco agli ospiti che realizzano subito il gol che dimezza lo svantaggio, ma non riescono a rimettere la gara incareggiata. Mister Di Corato non ha nessun squalificato, eschiera Altare e si in cabina di regina, impiegando in attacco Albrizio e Trigiani, con Papagna a supporto. Per quanto riguarda il Gallipoli, Mister Ruperto si affida al 4-3-3 con in avanti Romano e Sansò e di mezzo il giovane Jurato. Pronti via e i Biceglie si mettono subito la freccia, passano 8 minuti ed Emango realizza il gol del vantaggio. Passa a SEO e è abile a respingere il primo tiro del numero 7, che si ripresenta sulla ribattuta e mette a segno il primo centro in questo campionato. A metà della frazione inaugurale arriva la replica del Gallipoli. Richella in area stoppa male la sfera e calcia poi debolmente, con l'urlo che respinge. Al 27esimo minuto un cross di De Mango diventa un tiro che termina poco alto. Dieci minuti più tardi il Biceglie raddoppia, tiro di Papagni deviato dalla difesa. La palla arriva dal Tares che agevolmente firma il doppio vantaggio dei padroni di casa. Al 41esimo unione calcio ancora pericolosa. Cross di Albrizio per Trigiani che calcia di prima da posizione ravvicinata e si deve opporre al miracolo di passasseo. Il primo tempo termina con i Bicegliesi che in scioltezza comandano la partita. Nella ripresa il Gallipoli rientra in campo con un altro piglio e trova subito la rete che dimezza lo svantaggio. Tiro innocuo di Sansò dalla distanza che entra in rete grazie alla disattenzione di Lullo. Al 26esimo Trigiani tutto solo in aria cerca il gol da Cineteca con una rovesciata. Tiro che però termina facilmente tra i guantoni di passasseo. Alla mezz'ora occasione dubbia in aria Bicegliese. Jurato si invola tutto solo in aria di rigore con Lullo che tocca il Salentino ma per l'arbitro non è calcio di rigore. Con le successive proteste degli ospiti. Al 36esimo minuto De Mango calcia a giro ma la sfera termina a lato. Da segnalare nel finale il rosso diretto estratto dal direttore di gara romano per proteste. Il match termina con la vittoria dell'Unione Calcio Biceglie che ritrova il gusto della vittoria. Nel prossimo turno la squadra di Mimmo di Corato giocherà in trasferta contro il Vieste. Mentre il Gallipodi cercherà di tornare a vincere in casa contro l'Otranto.